Oggi è la festa della donna e ovviamente è la festa delle donne che lavorano in ospedale. L'80% delle donne in sanità, possiamo dire che la sanità è rosa, quindi in qualche modo siamo delle professioniste, ma siamo anche delle donne, delle amiche, quindi la nostra vita personale e professionale si intreccia in tutto quello che siamo. Un ricordo particolare lo dedichiamo oggi, specialmente nel luogo in cui siamo, alle donne che stanno attraversando, alle nostre assistite che in questo momento stanno attraversando anche momenti difficili. La discriminazione è una realtà, anche nei paesi occidentali, pur essendo paesi più fortunati per la donna, sicuramente c'è. C'è però la volontà, c'è attenzione, c'è una consapevolezza nuova in cui noi vogliamo credere, siamo donne, siamo partecipi della società e vogliamo una parità che non sia solo teorica ma sia effettiva. Il mio team è completamente rosa, quindi noi siamo uno dei servizi all'interno dell'ASL Toscana Sud-Est dove siamo tutte donne e credo che questo sia sicuramente un valore aggiunto perché la donna comunque è sicuramente forza ma anche accoglienza. Credo che questo ospedale sia l'esempio dell'inclusione della donna, infatti diciamo che in tutti i setting operativi ci sono tantissime donne che ricoprono sia ruoli più marginali ma anche ruoli di molta importanza dirigenziale. Sì, devo dire che però anche i rappresentanti maschili sono assolutamente al pari dal punto di vista per esempio della sensibilità nei confronti delle mamme, nei confronti dei neonati.